Direttore generale Fabrizio Dioguardi si avvicina alla partita contro lo Spoleto che il Rezzo affronta di nuovo in emergenza. Cosa bisogna aspettarsi da una partita del genere in questo momento così delicato? Purtroppo l'emergenza ormai continua da un po' di tempo, però non era un alibi prima, non deve essere un alibi adesso. Io confido nella bontà del lavoro svolto in questa settimana, in quello che caratterialmente sta trasmettendo il mister a tutti i ragazzi della Rosa, per cui anche chi andrà in campo credo che darà quel qualcosa in più. Questa volta sicuramente ce l'aspettiamo. È arrivato il nuovo allenatore Federico Nofri, c'era stato il congedo con De Nicola, due nuovi acquisti, Sereni e Calzola. Un ragazzino molto interessante dal Perugia, questo anche in prospettiva futura immagino, sono dei discorsi aperti anche per quanto riguarda la prossima stagione? Certo, noi quando parliamo di giovani di Lega, cioè 94, 95, 96, è chiaro che si fa un discorso in prospettiva, non può essere diversamente, anche perché il futuro sono loro, perché è una base importante per la costruzione della prossima squadra. C'è stato anche il primo CDA della nuova gestione, mi dice che giudizio dà di questi primi 30 giorni circa nei quali si è insediata la nuova proprietà, insomma siete soddisfatti o c'è ancora qualcosa altro da fare? No, da fare c'è sempre perché bisogna sempre migliorarsi e migliorare, per cui la soddisfazione è adesso quello che noi dietro le quinte, diciamo così, stiamo continuando sempre a lavorare, a fare quello che ci siamo prefissi. È chiaro che poi se c'è la serenità dei risultati è qualcosa di ancora più importante, questo è ovvio. Le chiedo un'ultima cosa riguardo l'amministrazione comunale, il Presidente aveva caldeggiato la possibilità di un incontro, lei ha annunciato poco fa che lunedì prossimo avrete un incontro conoscitivo con il Sindaco Fanfani, ce lo può confermare? Sì, sì, abbiamo ottenuto questo incontro, ma conoscitivo, senza andare a, ho detto prima, non dobbiamo fare nessun tipo di richiesta, com'è giusto che sia che il Presidente di una società di calcio come Arezzo, dell'Arezzo, vada a conoscere il Sindaco e vediamo, insomma, è un discorso conoscitivo tra le parti.